Ciao ragazzi, benvenuti a un crimine al giorno per il 27 aprile, il crimine di cui vorrei parlare oggi è uno delle tragedie dei massacri più brutti che sono stati perpetrati nella ex yugoslavia ma ho volutamente introdotto il titolo sangue chiama sangue per indicare come questa spirale di non evoluzione diciamo orizzontale di materialismo di odio sia in realtà qualcosa insomma che assomiglia alla questione dell'uovo e della gallina insomma e che dovremmo cercare effettivamente di risolvere il discorso riflettendo su quelle che sono come dire le dinamiche davvero da sbattito dali di farfalla rispetto a tutto ciò che può essere uno tsunami ecco che ne deriva in queste situazioni. Io vorrei infatti innanzitutto nominare un comandante della polizia serbo montenegrina Milutin Prasevic che è stato il capo di un'unità che secondo una certa quantità di testimonianze è stato protagonista della polizia etnica degli albanesi nell'area durante il conflitto serbo montenegrino che ha riguardato anche poi il tentativo di pulizia etnica globale e di riacquisizione dei territori kosovari allora tutto nasce tra virgolette da qua anche se una persona non è determinante io vorrò andare a parlare di quello che purtroppo è stato un massacro terrificante viene definito il massacro di meia un villaggio di meia in kosovo ma questo agente di polizia è focale diciamo per l'inizio del massacro perché la sua partecipazione alla polizia etnica degli albanesi nell'area kosovara di meia in particolare fu ciò che fece scaturire il 21 aprile quindi quasi una settimana prima del 27 aprile il massacro di meia un attacco da parte dell'esercito di liberazione del kosovo il kla che aveva praticamente attaccato con con un imboscata con un bazooka il veicolo della polizia serba in cui c'erano cinque poliziotti uccisi dunque in questo pelascona viene riferita da alcuni testimoni in cui c'era anche effettivamente questo mio tim prasevic e andavano ricercando praticamente dei membri dell'ucca questo è il punto il problema che per loro in molti casi ricercare dei membri dell'ucca e ricercare dei terroristi significava sostanzialmente fucilare sul posto depredare o deportare verso belgrado e poi buttare in fosse comuni una certa quantità di civili persone che non avevano nulla a che fare con nessun tipo di appartenenza ecco ribelle rivoluzionaria piuttosto che terroristica così come poteva essere nominato perché che sangue chiama sangue sangue chiama sangue perché questo omicidio fu ciò che fece scaturire effettivamente il massacro cioè il l'argomento di oggi 27 aprile 28 aprile 1999 l'esecuzione di massa di almeno 300 civili albanesi fra i 16 e 60 anni almeno 300 perché le stime vanno dai 300 ai 450 diciamo che le stime primarie parlano di 372 civili che vengono effettivamente caratterizzati con il termine terroristi ma che in realtà sono caduti per una sorta di divisione indiscriminata tra uomini donne e bambini quindi sostanzialmente tutti i ragazzi maschi dai 16 a 60 anni per una pulizia totale del territorio verranno separati all'interno di rastrellamenti in questi villaggi di meia orizza durante 27 28 aprile del 1999 e poi sostanzialmente le donne e i bambini verranno avviati in allontanamento da queste regioni o in deportazione parziale al di là dei confini e gli uomini verranno separati e vennero giustiziati sostanzialmente a gruppi di 20 lungo la strada questo è uno dei crimini veramente più brutti che sono avvenuti anche se ne sono avvenuti ovviamente tantissimi durante i conflitti nella guerra della ex yugoslavia in cui io non voglio prendere ovviamente in questo momento né non vogliono fare discussione né prendere posizionamento le prime persone tra i 100 e 150 uomini compresi tra i 15 16 e 50 anni verranno portati via dalla folla e verranno depredate le case le donne e i bambini più piccoli ragazzini verranno costretti a consegnare tutti gli averi di casa gli averi di famiglia mentre gli uomini verranno deportati e poi a gruppi di 20 appunto come ho detto verranno giustiziati parzialmente lasciati lungo le strade che portavano fuori dal kosovo e parzialmente a quanto pare dagli sviluppi delle testimonianze successive trasportati a belgrado addirittura decapitati selvaggiamente brutalizzati e pestati dalla polizia prima di poi essere uccisi ecco in maniera sommaria dai gruppi di sicurezza le testimonianze ovviamente divergono in maniera evidente nel senso che le testimonianze da parte dei kossovari parlano di quello che probabilmente è stato il massacro le testimonianze da parte delle forze di sicurezza serbe così come dell'un nhcr scusatemi tendenzialmente dicono che non ci sono prove determinanti per capire chi abbia portato a termine questo massacro né in che termini in che modalità sia stato portato a termine tranne il fatto che apparentemente siano comparsi dei corpi in fosse comuni vicino a belgrado come al solito c'è da notare eh una cosa al di là delle brutalizzazioni dei sequestri eh delle del depredare insomma le case gli averi eccetera al di là del costringere questi uomini kossovari a urlare viva Milosevic lunga vita alla Serbia per poi essere picchiati uccisi eccetera rimane il fatto che guarda caso eh l'unica forza che sostanzialmente riesce a dare qualche riferimento relativo a quello che è successo è sono i ricercatori di Human Rights Watch nel senso che nella prima mattinata del 28 aprile tendenzialmente loro attendevano i rifugiati del Kosovo che erano stati sfollati dalle zone eh di Meia al valico di frontiera a Morina vidano trattori con rimorchi che trasportavano sostanzialmente soltanto donne, bambini e anziani quindi persone al di sopra dei sessant'anni. Questo era il risultato come è stato poi prodotto in termini di testimonianze anche da alcuni serbi di ciò che era successo a Meia e nei eh villaggi vicini insomma una divisione della popolazione come abbiamo già visto come vedremo magari anche in altre eh situazioni relative per esempio vabbè al celeberrimo massacro di Serbrenica che è qualcosa di inconfrontabile con questo ma in realtà poi inconfrontabile in che senso io non lo so nel senso che un morto o diecimila morti o cinquantamila morti eh per motivi abietti in questa maniera secondo me non fa molta differenza. Human Rights Watch parrebbe aver visto insomma eh una certa quantità di corpi ammucchiati a diversi metri dalla strada nel centro del villaggio di Meia ammucchiati sostanzialmente in un mucchio in una zona che occupava non più di una quindicina di metri per cinque e un mucchio alto un metro e mezzo di corpi quindi evidentemente neanche partiti dopo la separazione ma direttamente fucilati insomma gruppi di venti a quanto pare in quel pomeriggio del 27 aprile. Uno dei crimini più brutti che siano stati portati a termine nella zona eh kosovara per quanto concerne eh la chiamiamo la guerra ok Serbia Montenegro e quant'altro. Allora una cosa che a me eh risulta necessario è perché sono il teo e devo dire queste cose qua così come a quanto pare i caschi blu dell'ONU nel caso di Iser e Vrenica in quel caso i caschi blu olandesi avevano detto di non avere le forze di non avere il modo di intervenire che i eh le forze d'assalto per esempio delle tigri d'arcanne erano troppo importanti per essere confrontate eccetera eccetera rimane il fatto che gli uomini della NATO entrarono in Kosovo ovviamente soltanto in questo caso come in altri casi a massacro finito. Hanno trovato una certa quantità di effetti personali delle vittime bruciati, cadaveri bruciati, proiettili vuoti e una certa quantità di cadaveri che non avevano più la testa. Mancavano al al conteggio però circa duecento cadaveri che verranno poi ritrovati in alcune fosse comuni vicino a Belgrado. Esiste anche una testimonianza importante di un militare dell'esercito jugoslavo che è Nike Perai che eh ci ha detto sostanzialmente che nel periodo fra il 27 e il 28 aprile o nel periodo in realtà allargato fra il 25 e il 30 aprile a Meia erano stati uccisi circa 68 eh terroristi e a Coreniza una città poco vicina altri 74. Eh sottolinea però che il termine terrorista veniva usato in maniera indiscriminata per definire in realtà la popolazione albanese in Kosovo quindi anche i civili. Quindi questo è assolutamente un riferimento interessante importante per capire non soltanto i numeri che ci interessano relativamente nel senso che sono terrificanti ma che sono numeri purtroppo qua tanti qua meno qua di là un po' di più insomma questo è il problema ma questo era il comportamento. Però il sangue chiama sangue le persecuzioni contro i kosovari albanesi prima da parte di quel personaggio della polizia che sicuramente non era l'unico, l'uccisione di questo personaggio della polizia con altri quattro membri in una macchina con un colpo di bazooka, di nuovo le rappresaglie con il rastrellamento, l'uccisione indiscriminata di persone dai 16 a 60 anni e via dicendo. Questa spirale di non evoluzione orizzontale della violenza, di materialismo imperante e continuo all'interno di quella che è la nostra società che in qualche maniera fornisce dei obiettivi sostitutivi a quella che è la vera felicità e gli obiettivi sostitutivi vanno da una ricerca di celebrità eccezionale fino a delle motivazioni ideologiche di base che possono essere ancora legate alla terra, continua a non fallire e secondo me unisce, continua ad unire le due facce della stessa medaglia, cioè da una parte ci può essere il materialismo effettivamente socialista, dall'altra parte ci può essere un materialismo di tipo capitalista, ma questo tipo di posizionamenti sono due facce della stessa medaglia e stanno costruendo da una parte povertà e continue guerre, dall'altra parte producono ogni tanto un criminale da mettere all'agonia in paesi più sviluppati, più ricchi eccetera, ma la terza via della fierezza, dell'essere fermi sul proprio posizionamento, della crescita del proprio paese, della difesa dei propri mercati, della capacità di andare a esportare un sistema di collaborazione autarchico da un paese all'altro, ecco questo sistema è stato sistematicamente preso a cannonate da entrambi i due sistemi da una parte o dall'altra, allora siamo davvero sicuri che questo dualismo sia il risultato migliore perché questo dualismo sia, voglio dire, la forma migliore e che stiamo facendo effettivamente, non ci stiamo facendo abbindolare da una serie di obiettivi sostitutivi all'interno di un mondo ideologico che in realtà potrebbe anche essere d'accordo da una parte o dall'altra, chi lo sa, il risultato è che sangue chiama sempre sangue morti, chiamano sempre morti. Ragazzi questo era il crimine di oggi, Massacro di Meia, andate ad approfondire, ci vediamo domani come al solito con un'altra pillola di crimine e in settimana con i nuovi prodotti del canale Crack Apart, la bottecuccia. Grazie mille, buon sabato e buona domenica. Ciao ciao. Grazie mille.